Aveva voglia e spiegava di classificare quelle etichette, ma era molto difficile. Ovviamente c'era l'ordine cronologico, ma lo trovava misero, ancora più misero dell'ordine alfabetico. Quello che avrebbe voluto era che ogni etichetta fosse collegata alla successiva, ma ogni volta per un motivo diverso. La stessa grafia, due slogan simili. Oppure una relazione basata non su una somiglianza, ma su un contrasto, o su un'associazione fragile, quasi arbitraria. Non solo è difficile, aggiungeva, ma soprattutto inutile. Se lasci le etichette alla rinfusa e ne scegli due a casaccio, puoi essere sicuro che avranno sempre almeno tre punti in comune. In capo a qualche settimana, rimise le etichette nella scatola da scarpe in cui le teneva e sistemò la scatola in fondo all'armadio. Non cominciò più niente di speciale. Grazie. 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 Grazie.